Ben tornati a tutti. Oggi è venerdì, 29 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno? Segno fortunato. Giornata ecologista anche a distanza? Nonostante le giornate abbiano preso ad accorciarsi, la voglia di star fuori la sera non si esaurisce mai, anzi, accelera, è il canto del cigno dell'estate, che non vorreste far volare via. Forte la voglia di uscire la sera, appia ur, pizzata, chiacchiere o magari, ora che i corsi sono ricominciati, anche quello di Zumba, di Cinese, o di Aute Cuisine. Ma se il meteo è temporalesco, passato dal caldo torri dalla bufera, e un'agenda strapiena di impegni lavorativi ve lo impediscono, fate di necessità virtù, chi lo dice che la parola movimento si leghi esclusivamente al fisico? Complice il sestile in gioco tra la coppia Luna Nettuno e Urano, il velocista, potete correre, volare, navigare, viaggiare anche con la mente, anzi meglio, perché va più veloce e non rischia incidenti e multe. Le parole oggi corrono forte, toccando argomenti intimi e profondi. Dubbi da chiarire in famiglia dopo un malinteso, qualcuno nasconde dettaglio o distorce la verità. Non improbabili anche lavori di manutenzione e qualche abbellimento in casa, inutile contattare un esperto se avete il talento del fai da te. Un uomo fondamentalmente pericoloso per voi, che recrimina, che vi odia, che nutre del risentimento per voi a causa di presunti torti subiti. Sarà bene restare quanto più lontani da questo uomo perché potrebbe comportare seri pericoli e danni, sia alla vostra persona che alle vostre cose. Incontri sbagliati per i single, fate molta attenzione a chi incontrate in questo periodo. Mostrati forte e deciso. Non fare cose in cui non credi veramente. Il tuo ottimismo ti farà vincere. Rispetta appuntamenti e patti. Cerca di non andare troppo oltre con la fantasia e di non farti prendere da timori infondati. In amore, avrai voglia di mandare tutto all'aria perché non ti sentirai pienamente corrisposto. Buona grinta la vostra in questa giornata che vi crea qualche preoccupazione dal punto di vista economico e qualche malinteso, in serata, con qualche vostra amicizia. Guardate oltre e datevi da fare per un impegno che avete preso da molto tempo. Un amico sincero è per sempre, ma oggi un vostro amico potrebbe inspiegabilmente darvi buca e darvi qualche gratta capo. Non mostratevi risentiti e fate buon viso a cattivo gioco. C'è qualcuno che vi pensa in segreto e sempre segretamente vi desidera, ma voi sembrate snobbarlo ed è per questo che resta nascosto. Diecerie sul vostro conto, fate in modo che queste non trovino ecco presso le persone che vi sono care. Provate a dissolverle con il buon senso e una sana informazione su chi siete davvero. Il mal d'amore è una brutta faccenda, per chi ne soffre oggi non è una giornata rilassante ed ideale. Bene invece i piccoli colpi di fortuna. Tensioni. Scarica le energie in eccesso praticando qualche sport o qualche hobby. Sarai gentile, servizievole e bravo nei lavori che, richiedono pazienza. Benissimo il lavoro. Offerte buone. Novità. Bene viaggi e spostanti. La vita familiare vi regala momenti di vera gioia, specie se siete nati in dicembre, consentendovi di mettere a posto alcune questioni patrimoniali lasciate in sospeso nei giorni scorsi. La luna nel segno amico dei pesci migliora oggi considerevolmente il vostro umore. Una giornata davvero magica questo venerdì di fine settembre per voi, in linea col vostro carattere introspettivo, ma tutt'altro che triste. A renderla serena due bi e i trigoni al vostro indirizzo, mercurio in vergine e la coppia giove-urano in toro, dunque tutta la sicurezza dell'elemento terra a vostra disposizione, pronta a regalarvi non solo amore, svaghi, ma anche dolci fantasie e progetti per un futuro non troppo lontano. Amore ed Eros. Insolitamente romantici rispetto al solito trend, gratificate il partner con frasi poetiche che lo lasceranno stralunato. Disponibili anche con i figli, che trovano il loro spazio di autonomia, pur rimanendo all'interno delle regole, guai se così non fosse, la sensibilità saturnina tornerebbe subito fuori. Marte e il sole dalla bilancia, segno nemico, amatissimo sullo schema zodiacale, vi rendono poco sicuri di voi stessi col vostro o la vostra partner, innalzando, anche a volte considerevolmente, il livello della vostra gelosia. È ancora la vostra proverbiale possessività a darvi maggior filo da torcere in questo giorno settembrino. Questo tipo di situazione è più in evidenza se avete da poco cominciato una storia e se siete nati in gennaio. Chi invece ha una relazione di lungo periodo non dia eccessiva importanza a qualche silenzio che la persona amata può manifestare, sappiate comprendere questo suo momento e non vi preoccupate se, temporaneamente, non avete quella sintonia che sperimentate quotidianamente. Lavoro e denaro? Quante cose si possono fare, invece di piangersi addosso, quando si è a casa dal lavoro, magari in cassa integrazione? Meglio ancora se il lavoro c'è ma si dispone della serata libera, da dedicare alla persona del cuore, sognando la mappa della futura felicità. Letture profonde e successo negli studi, anche i viaggi filano veloci e senza rischi, meglio di così solo nelle fiabbe. Gratificati dalla stima e anche dall'affetto dei vostri colleghi, procedete spediti verso mete prestigiose nella vostra carriera, che si riveleranno determinanti per la vostra crescita futura. Benessere. Guai a mangiare per noia, non solo bisogna tornare a fare la spesa, ma va tutto in ciccia. E poi bisogna mettersi a dieta. Invece di rincorrere i buoi quando sono scappati, chiudete la stalla prima che lo facciano. Per lei, se avete ripreso i contatti con i compagni del liceo, non c'è settimana che non vi incontriate, sia pure a gruppetti, per due chiacchiere, rivangando i vecchi tempi ma parlando anche del presente e del futuro. Crescere insieme vi ha resi complici, sapete di poter contare l'uno sull'altro. Per lui, anche in una serata casalinga, volendo non ci sono tempi morti, un'occhiata alla libreria vi darà subito l'ispirazione giusta per occupare costruttivamente il vostro tempo libero. Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 9, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.